Qualità, eleganza e stile senza tempo sono sinonimi del Made in Italy, marchio riconosciuto in tutto il mondo e che ha fatto la storia del nostro paese. Grazie all'arte della manualità e alla cura dei dettagli dei nostri artigiani, i prodotti sartoriali italiani sono stati tra i primi a farsi apprezzare all'estero, diffondendosi in tutto il mondo. Sono quasi 60.000 gli artigiani delle piccole e medie imprese italiane che lavorano nel mondo della moda, esportando però meno del 50% rispetto a quanto potrebbero produrre. Di contro per un brand internazionale, venire a produrre in Italia è un percorso incerto, complesso e costoso. Per questo nasce Italian Artisan, la B2B matching platform che ha l'obiettivo di rendere accessibile l'eccellenza manifatturiera del Made in Italy in tutto il mondo. Sono Gaia Russi, cofondatrice e amministratore delegato di Italian Artisan. Italian Artisan nasce con l'obiettivo di mettere in contatto brand internazionali con le eccellenze manifatturierie italiane al fine di promuovere il Made in Italy nel mondo. Italian Artisan è specializzato verticalmente sul Made in Italy e combina il know-how e l'expertise del canale tradizionale, per canale tradizionale intendo le fiere, i mediatori, i buying office, gli agenti sul territorio, con l'efficienza tecnologica delle piattaforme internazionali del matching platform che hanno una grande efficienza ma un'esperienza del Made in Italy molto molto più bassa. Sono sufficienti tre semplici passaggi per iniziare una produzione Made in Italy. Uno, carica la tua collezione. Due, ricevi proposte direttamente dai nostri produttori profilati. Tre, chatta direttamente con loro e inizia il ciclo produttivo. Inoltre offriamo ai brand servizi che li accompagnano per tutto il percorso produttivo, dal design alla realizzazione del prototipo, alla messa in produzione, fino al controllo qualità. Tutto questo ci ha portato ad avere sulla nostra piattaforma oltre 3.000 brand attivi da tutto il mondo e oltre 500 produttori artigiani italiani. Noi guadagniamo la commissione sulle produzioni transate in piattaforma e sui servizi che offriamo ai nostri brand. I nostri produttori entrano gratuitamente in piattaforma. C'è l'opportunità di accrescere il proprio profilo, di accrescere i propri servizi e andando a dei servizi di abbonamento che offriamo loro. Entriamo in raccolta di crowdfund con Opstart con l'obiettivo di raccolta di 800.000 euro. Questo investimento ci permetterà di raggiungere tre obiettivi fondamentali. Il primo obiettivo è quello di un ulteriore sviluppo tecnologico della nostra piattaforma al fine di fornire a brands e produttori non solo un servizio di private label ma ad ampliare al white label, quindi vendita da catalogo di produzioni che già i produttori hanno nelle loro collezioni. Il secondo obiettivo è l'investimento in marketing al fine di arrivare ai tre anni a 60.000 brand. Questo ci permette di aumentare notevolmente il transato fino ad arrivare al terzo anno a 11 milioni di euro di Made in Italy export transato alla nostra piattaforma. Il terzo obiettivo è rafforzare il team commerciale sia sui brand che sui territori. Perché investire in Italian Artisan? Significa entrare nel nostro team, sostenere dall'interno i nostri artigiani, le eccellenze manufatturierie del Made in Italy. I nostri artigiani sono piccole imprese, spesso familiari e molte alla seconda o alla terza generazione. Vogliamo sostenere e fare crescere affinché il loro know-how continui anche nelle future generazioni. Mi chiamo Fabiola, sono un'artigiana e opero nel settore castaturiero da 30 anni circa. Grazie a Italian Artisan ora lavoriamo in quattro nuovi mercati. Ciao, sono Massimo, titolare della vita 2020. Da oltre due anni collaboro con Italian Artisan e il loro team e devo dire con ottimi risultati. Far parte di questo progetto vuol dire anche entrare in un mercato enorme, quello del fashion. Con il 95% dell'export Made in Italy che riguarda proprio il settore manifatturiero, rientrare dall'investimento in tre anni e poter recuperare fino al 50% dell'investimento in detrazione fiscale. Partecipa alla nostra campagna di crowdfund e sostiene insieme a noi dall'interno le eccellenze manifatturiere italiane.